Addio alle bolle, al triage e agli ingressi scaglionati. Gli asili nido del comune di Fanno hanno riaperto con una settimana di anticipo rispetto alle scuole e senza restrizioni legate al covid. Dunque i bambini sono tornati a giocare tutti insieme, chiudendo nel cassetto dei ricordi quelle regole imposte anche a loro fino a pochi mesi fa. Mercoledì 7 i servizi 03, quindi nido, sezione di raccordo, sezione primavera, sono stati riaperti e hanno ripreso la loro attività. Questo per rispondere ovviamente ai bisogni delle famiglie ma anche al bisogno di socialità delle bambine e dei bambini più piccoli. Insieme alla riapertura dei servizi 03 è ripartito anche il servizio di riflessione per cui già dall'altro ieri le nostre cucine comunali sono rientrate in funzione. Il prossimo passaggio importante è quello ovviamente dell'avvio dell'anno scolastico 22-23 che è previsto per il prossimo 14 settembre per la scuola dell'infanzia sia comunale che statale, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Anche qui alcuni punti fermi per quanto riguarda i servizi comunali. Quindi soprattutto ricordiamo che rifezione scolastica e trasporto scuolabus saranno garantiti per tutti coloro che sono iscritti a questi servizi già dal primo giorno di scuola. Quindi dal 14 settembre. Per la scuola dell'infanzia, proseguito l'assessore, siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste. Le iscrizioni sono state 526. Per i servizi 03 invece è stato registrato un aumento di oltre il 30%. Qui i bambini che sono stati accolti sono 263 e ne abbiamo invece in lista di attesa 102. Quindi un numero sicuramente molto significativo ed è il motivo per cui abbiamo programmato e già finanziato la realizzazione di nuove sezioni di nido all'interno del nuovo polo dell'infanzia di Cucurano. E abbiamo candidato per i fondi PNRR due progetti per la realizzazione di un nido a bellocchi e di un nido a vallato. Proprio perché c'è la necessità, oltre a ridurre le tariffe come abbiamo fatto, o di prolungare l'orario di questi servizi come abbiamo fatto, di fare un investimento anche sugli spazi e sulle strutture. Jessica, rispetto agli anni passati, finalmente si torna alla normalità? Sì, si torna senza mascherine, quindi con i nostri sorrisi, con le possibilità di comunicare con i bambini e le famiglie per intero e si torna finalmente con gli spazi a disposizione di tutti i bambini, tutti gli spazi. Questo vorrà dire per noi diffondere le esperienze educative, moltiplicarle, le possibilità di gioco dei bambini, i laboratori, gli atelier, in tutte le scuole comunali di Fano, 06, nido, scuola dell'infanzia. Il bambino muovendosi nei luoghi educativi incontrerà diverse opportunità di gioco, ad accesso libero, con degli adulti capaci e competenti a supervisionare e a fare delle proposte anche molto interessanti, secondo me.